Dopo la bella e importante vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale sull'ostico campo del Mondovì, il Valle Soverato torna al Palascoppa, domenica 21 gennaio si affronta in casa il Baronissi, obiettivo dar seguito a questa bella vittoria, coach Barbieri. Sì, è un match non semplice, come hai detto giustamente tu abbiamo ritrovato anche un po' il morale con questa vittoria, è un match non semplice perché è una squadra molto intercambiabile, una squadra non facile da studiare perché ha girato gli attaccanti, ha girato i centrali, perciò sotto l'aspetto della correlazione muro-difesa non è semplice per noi, Noi comunque ci stiamo lavorando, stiamo studiando bene la partita e sono convinto che per domenica saremo pronti. Tornando inevitabilmente indietro, torniamo alla partita di mercoledì, venivate da una brutta sconfitta interna con Brescia, c'è stata una reazione della squadra che era riduce da un periodo negativo, sicuramente dicevamo alla vigilia gli stimoli non sarebbero mancati nell'andare a affrontare la capolista sul suo campo, così è stato, ma la squadra ha disputato un'ottima gara in tutti i fondamentali. Sì, sicuramente abbiamo giocato bene, però abbiamo fatto forse la nostra migliore partita in battuta perché abbiamo rischiato e abbiamo ottenuto molto dal servizio, commettendo non solo il discorso degli errori o non errori, ma abbiamo sempre messo in difficoltà la loro eccezione e questo ci ha permesso di giocare nel migliore dei modi. Infine abbiamo parlato in questo periodo molto spesso di un problema probabilmente più mentale della squadra, può questa vittoria ottenuta in trasferta con Mondovì sbloccare la squadra e da qui ripartire con uno spirito e un approccio anche diverso? Noi abbiamo avuto una fase in cui abbiamo vinto tantissimo, abbiamo fatto otto partite di fila, poi ci sta avere un momento, abbiamo avuto una flessione un pochettino anche fisica, però è logico che è innegabile che le vittorie danno sempre morale, questo ci sta. Noi avendo perso un paio di partite in casa magari c'era come avevamo detto il rischio che intrasse una componente psicologica, questa l'abbiamo tolta e adesso ritorniamo a giocare come sappiamo con tranquillità. Noi siamo una squadra che ha delle potenzialità enormi in alcuni fondamentali e altri che dobbiamo lavorare. Sappiamo dove dobbiamo lavorare, stiamo crescendo e come ho già detto non è qua che una vittoria in più o in meno faccia la differenza, ma arrivare nei momenti che contano è essere al top e io penso che la mia squadra quando i momenti conteranno sarà nella condizione ideale. E da poco più di due mesi ha Soverato e abbiamo il piacere anche di averlo ai microfoni di S1 TV, lo scoutman del Vole Soverato, Sebastian Maveric. Innanzitutto ti chiediamo il bilancio di questi primi due mesi qui a Soverato, se erano come te li aspettavi perché sicuramente sei arrivato in una realtà di A2 importante, una società che disputa da tanti anni il campionato di A2. Io qua devo dire personalmente mi sento molto bene, la città è bellissima, come quanto riguarda il campionato conosco Daris già da alcuni anni, mi ha parlato molto bene perché lui era già qua, ho voluto fare questa esperienza così quando si è formata la possibilità di arrivare non ci ho pensato tanto per decidere di venire qua a questo campionato di un alto livello. Allora, visto che tu sei l'addetto alle statistiche, parliamo anche un po' di statistiche con te e analizziamo soprattutto l'ultima partita, questa bella vittoria a Mondovì, dicevamo con coach Barbieri prima una squadra che ha giocato bene in tutti i fondamentali. Sì, devo dire che in tutti gli allenamenti lavoriamo su quello che ci serve, quello che dobbiamo migliorare, là ci abbiamo messo del carattere, abbiamo lottato su ogni pallone e poi si è visto anche il risultato. Essendo uno scoutman sei uno che sta anche molto attento ai numeri e alle percentuali, che campionato è questo qui secondo Sebastian Maveric, vedendo anche le squadre che avete affrontato, che idea ti sei fatto? Ma devo dire che è un campionato di un ottimo livello, anche con le giocatrici che hanno giocato in A1 e tutto, con altri giovani brave. Devo dire che le squadre nella prima metà della classifica siamo tutti là, possiamo lottare tutti per vincere questo campionato, poi si vede anche dei risultati che qualche partita si può fare anche male e con la poca differenza che c'è subito si sale e si scende.